Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Aglio. In A11 i rallentamenti per una perdita di carico tra Lucca, Est e Capannori in direzione Firenze. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, verso Firenze, rallentamenti tra La Strassigna e Firenze-Scandicci. Sulla statale 1 Aurelia, rallentamenti per lavori tra Follonica Nord e Venturina, in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa, in direzione Siena. Possibili rallentamenti tra Colle di Val del Sanord e Poggi Bonsi Sud, in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!